Un minimarket della droga in casa, a scoprirlo, sono stati i carabinieri di Badia Prataglia, nella Retino, in Manette, è finito uno spacciatore e un altro, è stato denunciato. Le indagini erano iniziate a fine 2022, quando i carabinieri intervennero per prestare soccorso ad un casentinese finito in overdose. Hanno così ricostruito i movimenti dei due indagati e con il supporto dei colleghi della compagnia di Arezzo e Bibbiena, li hanno beccati in città in flagranza di reato, mentre scambiavano dosi di eroina. Uno è stato arrestato dopo un breve inseguimento a piedi e nel tentativo di fuga avrebbe fatto cadere anche uno dei carabinieri e provato a disfarsi della droga in tutto, 12 grammi di eroina suddivisa in 18 dosi, 5 di cocaina e 100 euro in contanti. L'uomo arrestato per spaccio dovrà rispondere anche di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento di un monitor nella sala d'aspetto dell'ospedale di Bibbiena. L'altro invece non ha opposto resistenza ed è stato denunciato. All'interno della casa, dell'abitazione e dell'arrestato sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish, 40 di eroina e 20 di cocaina. Tutta la droga era già stata suddivisa in dosi pronta per lo spaccio. Oltre allo stupefacente sono stati rinvenuti 3.500 euro in contanti e una notevole quantità di telefoni cellulari.